Cosa manca? Manca la scala, anche perché altrimenti arrivare al primo piano la vedo dura. La scala però ha prima bisogno di essere costruita, diciamo, ci prendiamo per esempio il quadro 15, un foglio vuoto, teniamo il piano terra sotto e facciamo la costruzione della scala. Non so, potremmo metterla qui. Tiriamo una riga, poi con gli strumenti CAD per esempio la parallela, tiriamo una parallela a due metri, proprio ad incontrare una finestra che dopo magari toglieremo, dopodiché prendiamo un'altra riga di costruzione, questa la mettiamo a tre metri, diciamo questo potrebbe essere già l'ingombro di una scala. Tenendo sotto questo adesso andiamo a costruirci la scala. Per costruire una scala si utilizzano strumenti molto interessanti che sono questi. Si possono costruire scala di diverse tipologie, dritte, a due oppure ad angolo, o a piedocca come dice lui, a chiocciolo oppure con i pianerottoli. Noi facciamo anche a pianta libera volendo. Noi facciamo una bella scala con un bel pianerottolo. Si inizia a disegnare la sagoma della scala partendo dal lato esterno. Dopodiché una rampa può essere 90 cm quindi ci mettiamo lungo questa linea di costruzione tratteggiata e scriviamo punto a 9. Poi rientrerà di due metri, il pianerottolo è uno e lo sviluppo totale sarà 3. Quindi 2 metri, 10 cm, ritorniamo qui ed è la scala finita. Parte da questo punto e arriverà sopra di qua. Andiamo a modificare l'altezza della scala perché noi la vogliamo che arrivi fino a piano sopra e quindi fino a 3 metri. Si può anche scegliere di creare una scala con un gradino finale ma è sempre meglio utilizzare questa tipologia perché diminuisce il numero di gradini. E utilizziamo sempre la regola 2A più P, la famosa regola per creare le scale. E poi facciamo ok. E la scala è creata. A questo punto si può sistemare, si possono inserire nuovi gradini oppure pianerottoli, alzate e si può anche modificare in 2D e in 3D attraverso questi schemi. In particolare non interessa la geometria 3D. La pedata possiamo anche non metterla, sono praticamente la copertura dei gradini. Invece ci interessa magari più la struttura centrale. Qui si modificano le misure della struttura centrale, diciamo che la soletta è di 20 per star sul sicuro. Ed ecco fatta la nostra scala. Ovviamente si possono anche associare materiali. Ok. Chiudiamo. Salviamo le modifiche. A questo punto il programma già propone un suo cartiglio. 16 alzate con le misure delle alzate della pedata. Però questo ne parliamo dopo con i cartigli. Andiamo a vedere. Eccola qua. Una scala che interseca bene due finestre. Abbiamo proprio fatta bene questa scala. Però insomma, queste finestre è meglio toglierle. Insomma già una scala fatta così velocemente. Ovviamente la scala permette anche di, cliccandoci sopra due volte, di rientrare e di modificare qualcosa. Per esempio possiamo aggiungere i corrimani, interno ed esterno. Adesso qui non sto a sistemare le varie opzioni, però insomma si può eventualmente. Chiudiamo la scala e salviamo le modifiche. Non salviamo ovviamente il cartiglio in questo momento perché l'etichetta non ci interessa. Ecco qui. Si possono anche eventualmente aggiungere i montanti e i traversi. Andiamo ora a sistemare le ultime cose. E innanzitutto qui nel quadro 15 avevamo messo le costruzioni della scala. Lo possiamo cancellare con il secondo pulsante. Si clicca sul quadro e ci sono ovviamente scende la tendina con tutte le possibilità di operare su questo quadro. Per esempio possiamo cancellare il contenuto del quadro. Chiedere se vogliamo cancellare anche il nome ma non li abbiamo messo. Comunque diciamo di sì. E il quadro è di nuovo pulito. Nella 14 invece avevamo messo la moda natura che trasformiamo anche questa in oggetti 3D. E andiamo a posizionare al primo piano che è il suo piano di riferimento. Ctrl X. Ok. Poi Ctrl Alt V. Eccola qua. Dopodiché ci riguardiamo il nostro oggetto completo. Inseriamo adesso i muri interni. Piano terra. Facciamo una cosa molto alla buona. Allora prendiamo il muro. In questo caso lo modifichiamo. 10 cm per i muri interni va bene. Come altezza per non andare a incontrare il solaio potremmo dirgli che questo muro è alto 2,7. Così non va a intersecare il solaio e nelle sezioni che poi faremo non dovremo poi cancellare delle linee eventuali. Ok. Dunque in questo modo noi misuriamo la misura rispetto a questo punto di riferimento. È 2,74. Diciamo che 2,7 può andare. Possiamo tirare il nostro muro. Possiamo prendere anche questi punti di riferimento che generano degli snap o delle linee di costruzione. Giriamo in questo caso il muro perché ti servirà fino qua. Questa potrebbe essere per esempio la cucina. Poi non so, qui ci potrebbe essere un bagno. Prendiamo questo punto di riferimento. Dopo la finestra magari la spostiamo. Da qui misuriamo un metro e venti. Prendiamo verso l'interno di due metri. Un bel bagnetto. Dopodiché possiamo raccordare questa parete. Per esempio e qui creare una camera da letto. Eventualmente questo corridoio si può anche chiudere ma insomma chiudiamolo pure. Ok. Possiamo inserire le porte interne. Sono porte alte 2,1 normalmente e di 80 cm di larghezza. Non stiamo neanche a mettere una macro perché tanto nelle porte interne, a parte non vedersi dall'esterno, eventualmente si vedono solo nelle sezioni ma lì possiamo intervenire manualmente. Mettiamo però l'apertura è la battuta. Ne mettiamo magari, scegliamo questo come punto di riferimento. Prendiamo questo come livello di riferimento a 10 cm. Una volta creata la porta ci permette di scegliere dove aprirla. L'apriamo qua. Analogamente anche qui, 20 cm. Qui ci mettiamo il bagno e qui la camera da letto. Anche questa magari a 20 cm così in asse con l'altra. Infatti l'ho fatto a 10. vabbè. Qui non è venuto. Se non viene perché magari uscite prima dalla funzione basta cliccare sopra. Andiamo a dare la battuta da qua che è questa. Se poi la battuta compare in un punto in cui voi non la volete basta cliccare sopra la battuta, compare questa freccia e la potete anche direzionare in tutte le direzioni. Altrimenti se non volete la battuta a 90 gradi, premete qua e la potete fare più piccola, volendo. Quello del bagno normalmente si fa più piccolo. Ecco fatto. E qui invece abbiamo il grande soggiorno con la scala che sale. Andiamo sopra. possiamo tenere sempre come riferimento i muri sotto. E sopra magari, dato che si arriva qui, ci possono essere due camere da letto e un bagno. Mantenendo magari il bagno qui. Anzi, qui ci mettiamo la camera da letto. 5 metri. Raccordiamo questo muro con quello esistente. Qui ci sarà un bagnetto. Magari interno ad una delle camere. E qui possiamo mettere l'altra camera, per esempio. Adesso ho tirato il muro storto. Raccordiamo con questo qui. Per esempio, andiamo a metterci anche le porte. Adesso non stiamo a fare le cose precisissime perché tanto. Ecco qua. Volendo la battuta si può modificare da qui l'angolo. Ok. Poi copiamo le porte. Notare che diventano tutti uguali. Anche qui. Bene. Abbiamo fatto un po' di casino. Questo muro magari lo mettiamo qui. Così il bagno diventa più grande. Come si vede tutti i tipi di modifiche si fanno velocemente. Quindi progettare comunque in Alpern è un modo di progettare veloce che genera subito un oggetto tridimensionale. Ora qui c'è la scala che sale ma non c'è il buco nel solaio. Andiamo a fare il buco nel solaio. I solai, come altri oggetti architettonici, andandoci sopra e cliccando col tasto destro del mouse, permettono di aprire una tendina dove ci sono varie possibilità. Per esempio possiamo modificare il settore di campiture o lo subofficio di architettura come è questo. Andando a sottrarre col meno una fetta di solaio, questa, che è quella della scala. premendo ESC, eccola qui, sottratta e la scala compare che viene da sotto. Possiamo anche andare a modificare adesso la disposizione delle camere, per esempio adesso guardandoci bene, effettivamente qui c'è un bagno accessibile solo da questa camera, allora potremmo per esempio sistemare il bagno da quest'altra parte, con anche la sua porta e raccordare questi due muri in modo tale da avere due camere accessibili e magari invece che aprire di qua la porta, l'apriamo qui, questa la togliamo, ecco questa è già più vendibile come casa. Torniamo a pieno terra e andiamo ad inserire i vani.